Dal progetto Casi di Sassa al nucleo industriale gli inquilini non se ne vogliono andare. Qui hanno vissuto per 12 anni dopo il sisma e qui si è creata una piccola comunità. Le loro ragioni oggi in un'assemblea pubblica convocata nel centro ricreativo alle porte delle loro case. La lettera di sfratto è arrivata come un fulmine a ciel sereno a 170 famiglie poco prima di ferragosto. La motivazione è l'ospitalità che si dovrà dare alla Scuola Nazionale dei Vigili del Fuoco e a circa 750 allievi. Nessuno contesta questa realizzazione, anzi c'è un sentimento di riconoscenza diffuso per i pompieri. Ma cambiare casa di nuovo dopo 12 anni per alcuni equivale a un secondo terremoto. Trasferirli improvvisamente per loro è un trauma, quindi bisogna ragionare insieme a loro, coinvolgerli e vedere quali sono i problemi e come risolverli. Il tutto però nasce da una confusione anche intorno alla localizzazione delle strutture per i Vigili del Fuoco, per i quali mi pare si va da una frammentazione delle localizzazioni poco efficiente, poco funzionale, dispersiva e anche contaminante per il territorio. Tra l'altro quello è uno dei piani casa che sta su una zona alluvionale vicino a un fosso, quindi anche in contrasto con l'articolo 80. Quindi sarebbe uno di quei nuclei del piano casa che andrebbero demoliti e magari prima di tutto perché stanno a rischio alluvione, come si è verificato un paio di volte già in questi dieci anni. Il Comune sta agendo nella legittimità, nel senso che questa operazione è possibile per legge, ha fatto sapere che si darà priorità nelle scelte a chi è ancora a casa inagibile, poi agli affittuari, ma comunque a chi è in regola con i pagamenti. C'è da dire pure che le soluzioni prospettate a quanto pare, anche se nulla è ancora nero su bianco, parlano di nuovi alloggi a Camarda, a Sergi Ocre, ben lontani da dove si vive adesso. Il coordinamento spiega invece che ci sarebbero stati dei colloqui informali con alcuni inquilini, ma loro chiedono che tutto sia fatto alla luce del sole e in trasparenza con un algoritmo, un po' come accadde nelle assegnazioni post-sisma. Poi c'è il CONAPO, il sindacato dei Vigi del Fuoco, che è contrario alla localizzazione a Sassa, fatta senza consultare nessuno, dicono. Elio e D'Annibale apre alla solidarietà a questi cittadini sfrattati e ricorda che non sono stati coinvolti, neanche loro, per la ricostruzione della sede di Via Panella e questo è emblematico e su questo punto ci sarà uno sciopero il 18 settembre, sciopero provinciale di categoria. Ovviamente il sindacato non è contrario alla scelta di realizzare la scuola all'Aquila, anzi questo è un motivo di orgoglio. Noi pretenderemo un metodo oggettivo per assegnare eventualmente, ove accettassero i cittadini, noi vogliamo che venga costruita una gradatoria oggettiva sulla base dei requisiti, come fece un po' a suo tempo Bertolaso, un algoritmo che dice che si va sulla base di tutto familiare, lavoro, malattie, tutto quello che va considerato. Grazie.